Qual è la telecamera dei macelli? A operare per il controllo delle operazioni di macellazione. Possiamo dire che il livello delle operazioni nei macelli italiani, nell'impianto di macellazione italiano è di un buon livello, però non dobbiamo assolutamente dimenticare di lanciare questo grido di allarme. Nei prossimi 5 anni il 40% dei veterinari ufficiali del Servizio Sanitario Nazionale se ne andrà in pensione. Abbiamo una gobba generazionale che è oltre i 55 anni e si ridurranno le forze lavoro che vanno a garantire la sicurezza alimentare. Nei prossimi 5 anni verrà messa a rischio, se non verrà garantito il corretto turnover del veterinario ufficiali così come dei medici, verrà messa a rischio davvero la sicurezza alimentare, oltre che le operazioni per garantire il benessere animale, per la tutela del patrimonio zootecnico nazionale e tutto ciò che riguarda le filiere produttive degli alimenti di origine animale di questo Paese. Grazie per la visione!